Sono meglio per sapere come sarà la situazione del tempo nella giornata di domani. Anno nuovo? Nuova visione con l'offerta Multimedia HyperCop. TVLCD Samsung, 32 pollici HD Ready a 279 euro. Fino al primo febbraio negli HyperCop di Pesaro Cesano di Senigalli a Porto d'Ascoli, Ascoli Piceno. La Coop sei tu? Rimini mobili, l'intelligenza che arreda, la qualità, il design, la sicurezza della produzione italiana, raffinate soluzioni proposte su misura per soddisfare tutti gli stili di vita e arredare ogni spazio. Arredamenti classici e moderni, cucine, camere, camerette e bagni di produzione propria. Rimini mobili, la sicurezza di scegliere bene ad Appignano in Via Leopardi, aperto anche la domenica pomeriggio. Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti a confronto. A Roma, ai Musei Capitolini, fino al 12 febbraio 2012. Per la prima volta nella storia, i due grandi geni del rinascimento insieme in una grande mostra di oltre 70 capolavori e autografi. Leonardo e Michelangelo, capolavori della grafica e studi romani. Roma, Musei Capitolini, fino al 12 febbraio 2012. La qualità di un'impresa si riconosce dall'efficienza. Se non perdessi tempo prezioso con i debitori. Affidati a Pegaso Servizi, la società specializzata che con esperienza e aggressività recupera i tuoi crediti. Pegaso Servizi, a Monsano, Via Marche 25. Chiama senza impegno 0731 607435. Pegasulservizi.com Sco, sco, scontatissimi! Com'è bello risparmiare! Più di Marco Polo Expert? Conveniente, non c'è! Sì, perché solo da Marco Polo Expert il top dell'elettronica, telefonia, piccoli e grandi elettrodomestici è tuo con tantissime straordinarie offerte. Come ad esempio TV Color LCD Samsung 40 pollici full HD da 499 euro scontato del 30% a 399 euro. È questo il momento di buttarsi nel mare di sconti. Sco, sco, scontatissimi! Circa il negozio più vicino a te su marcopoloshop.it Nei supermercati Coop, una settimana tira l'altra, ogni sette giorni tante nuove occasioni. Per esempio, fino al 25 gennaio, tonno all'olio di oliva riomare da 2x200 grammi costa la metà. Nei supermercati di Coop Adriatica. La Coop sei tu! 40 anni senza abbassare la guardia, senza mai restare a guardare, senza farci prendere alla sprovvista, senza perdere un secondo, senza lasciare nulla al caso, senza dimenticare niente e nessuno, senza salvi in paradiso. Senza il vostro sostegno non sarebbe stato possibile. Medici Senza Frontiere, 40 anni di azione umanitaria indipendente. Continuate a sostenerci. MedicisenzaFrontiere.it Continuate a sostenerci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.